Prima di cominciare devo naturalmente fare un ringraziamento a Intercare che ci ha dato la possibilità di venire qui a ascoltare, perché poi è importante ascoltare, a imparare e anche a dire perché siamo qui, chi siamo, chi sono, perché poi questo è l'aspetto più importante. Chi siamo? Partiamo dal più semplice, io mi chiamo Giuseppe Bellandi, sono il presidente di un dieta che è un itinerario culturale europeo che include le più grandi e importanti città storiche termali d'Europa. Sono sindaco di Montecatini Terme, città che rappresenta nel termalismo europeo un punto fermo, così come le grandi città termali italiane, quali Salzo Maggiore, Acqui, Fiugi, Tianciano e tante altre che non voglio dimenticare, come Abano e Montegrotto. Ecco, accanto a noi perché siamo qui e perché siamo come itinerario culturale? Perché il turismo sanitario o la salute trasnazionale o la salute senza frontiere, io direi without boundaries, è nata nel XIX secolo, ancora prima, ma quella transnazionale è nata nelle città termali europee. I primi pazienti che attraversavano l'Europa, che non si curavano a casa propria o che era anche un'Italia, non proprio era un po' divisa, quindi avevamo delle diverse nazioni, si curavano nelle nostre città. Ecco perché abbiamo una esperienza, abbiamo una storia di ospitalità, di turismo, della salute, una salute che ben si adatta alla definizione di benessere fisico, psichico e sociale. Certo, e rappresentiamo anche fonte di una cultura diversa, ricordando, e questo purtroppo è il dato che un pochino abbiamo perso, che le acque termali sono farmaci. Sono un medico anch'io, facevo un'altra specialità, la radiologia, riconosco l'eccellenza, molto da toscano qual sono, riconosco l'eccellenza del sistema sanitario pubblico privato lombardo. Ho lavorato all'IEO, quindi ho lavorato anche negli Stati Uniti, per carità, ho lavorato anche da radiologo, poi sapete che la tecnologia è importante, però tornando al nostro campo, ed è importante dimostrare che qui possiamo starci con un certo orgoglio, imparare ma anche dare qualcosa. Quindi ci siamo, ve l'ho detto, siamo una associazione che è nata nel 2009, che nel 2010 è stata inclusa negli itinerari culturali europei, insieme, ne faccio due soli per esempio, quelli del Camino di Santiago e la Francigena, per dire l'importanza del messaggio che l'Europa vuole attraverso gli itinerari culturali portare avanti. Abbiamo circa 40 membri, da 13 nazioni diverse e vedete i nomi italiani ci sono, ma ci sono anche città importanti, quali Alembaden, quali Urense in Spagna, Spagna e Belgio, in Inghilterra, Montecatini, va bene, Budapest, Budapest, non è poco, in Portogallo, in Grecia, ci stiamo allargando, ci siamo allargati alla Turchia, conosciamo con Bursa, conosciamo veramente, ci conosciamo e crediamo di poterci stare. Ci sono dei criteri, sono dei criteri che fanno riferimento alla nostra storia, ma sono dei criteri che poi girano sempre, vedrete, girano sempre intorno alle acque, girano sempre intorno alle acque termali, perché le acque termali, non mi stancherò mai di dirlo, sono farmaci con diverse, e sono tutte diverse fra loro, hanno proprietà che non sono in competizione i centri termali, le cure termali non sono in competizione fra loro e per cure, poi naturalmente quando si parla di cura bisogna parlare di tutte quelle parti che sono fondamentali, la ricerca scientifica, l'accreditamento, essere inseriti magari nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, e solo i nove paesi della comunità europea sono inseriti. Ci sono paesi importanti come l'Inghilterra e la Spagna che non hanno un riconoscimento ufficiale delle cure termali. Come vedete, noi giriamo intorno ad una storia che nasce soprattutto nel XIX secolo, quando da viaggiatori, i cittadini europei sicuramente benestanti, si trasformano in turisti e si trasformano in turisti della salute, cioè cominciano a dire che il viaggio è bello ma stanca, andiamo per un certo periodo a rilassarsi e a curarci nei centri termali che risalgono tranquillamente, si può dire, ai tempi di Roma e forse anche prima. E questo è importante. Noi cosa vogliamo ottenere? Noi vogliamo ottenere la nostra visibilità, ma anche all'interno di questa visibilità quella efficacia e quella efficienza che le cure termali possono dare. Noi vogliamo ottenere quella qualità dai nostri centri termali che vi assicuro è importante. Siamo stati pochi mesi fa a Rovigno in Croazia sempre a parlare di turismo sanitario. Bene, vi assicuro che i centri termali europei sono estremamente, e soprattutto nell'est, estremamente efficienti e efficaci. La qualità dei centri termali è garantita. In Italia, dovete anche sapere questo, i centri termali, i stabilimenti termali sono stabilimenti sanitari come tutti gli altri stabilimenti e devono sottostare correttamente alle regole dell'accreditamento per avere le convenzioni. Noi abbiamo questa dimensione europea importante. Guardate, è vero, il mondo è più largo dell'Europa, per carità, ma avere una dimensione europea è importantissimo. Il riconoscimento che la comunità europea dà agli itinerari culturali è il riconoscimento che si dà a degli ambasciatori della cultura, e in questo caso anche della cultura sanitaria. Bene, noi sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa cerchiamo di anche promuovere la partecipazione ai fondi strutturali. Abbiamo messo su una sorta di... cominciamo a lavorare perché non è facile, non è che abbiamo risorse infinite, anzi i nostri comuni sono le nostre municipalità e i privati che ci aiutano. Viviamo sempre alla ricerca di risorse, però insieme riusciamo a fare qualcosa, come il Thermal Pass. Il Thermal Pass è una... sembra l'uovo di Colombo, ma si tratta praticamente le nostre città di tutti insieme di dire chi siamo, cosa facciamo e naturalmente di trovare anche delle facilità per i nostri clienti. Un'altra cosa molto importante, però questa riguarda veramente il sanitario, cioè la direttiva 24 del 2011. Ne è stato parlato anche a Rovigno, ne è stato parlato in Germania, ne è stato parlato in Francia. È una direttiva, chi la rispetta. Hanno tutti paura. Ecco, questo è il difetto di quell'Europa che non funziona. Hanno paura di mettersi sia nel pubblico che nel privato. Abbiamo tutti paura di mettersi non in competizione, ma di confrontarci con gli altri. E questo non va bene. Giusto, poi magari quel 22% dell'IVA, perché non ci mette in condizioni come altri paesi dove, per esempio, il turismo è più supportato. E il turismo sanitario significa curarsi alle terme stando in un albergo magari a quattro stelle. Far riabilitazione alle terme e stare in un albergo a quattro stelle con la famiglia si spende meno e si sta meglio. Questo è banale, perché la salute è fisica, sì, ma anche psichica e poi anche sociale, che è una parolina molto importante. Abbiamo un progetto, abbiamo questo progetto dell'Atlas, di un Atlante che stiamo sviluppando. È un Atlante dove vogliamo metterci tutte le informazioni delle mille e quattrocento città termali della comunità europea. E non è poco. Millequattrocento centri termali che danno benessere in maniera diversa, ma sempre ricorrendo all'acqua e tutti i prodotti derivati. Questo per noi è molto importante. L'ha seguito un comitato scientifico, è una cosa molto seria. Abbiamo una quantità di dati immensa da valutare, è un sistema che mette rapidamente il possibile, scusate la parola brutta, utente, o curista-turista, curista-turista come veniva detto anticamente tanti anni fa. Ecco, mette a disposizione del turista-curista, ma anche del medico, che ahimè con tanta difficoltà capisce a cosa serva la medicina termale, tutta quella serie di informazioni importanti che sono contenute in questo prodotto. Per quello che riguarda la salute, come vedete, è il punto 4 sulle spa, perché non confondiamo la spa termale vera con le spa che tutti i giorni purtroppo vengono offerte, dove l'acqua sì c'è, ma magari c'è un po' di chimica e sono tutti bravi a dire, cioè, un conto è l'acqua termale, acqua termale che dobbiamo, ed è questo, è importante, è importantissimo, dobbiamo difenderla come pubbliche amministrazioni, come stati, perché le acque termali sono veramente una benedizione. Quindi è stato sviluppato il prodotto in due diverse situazioni, BAT è una grande, bellissima città termale, antichissima città termale europea, Mondaliz è una piccola città in Spagna, ma proprio agli estremi è uscito questo prodotto. Lo abbiamo presentato l'anno scorso al Parlamento europeo, è importante, pensiamo che sia molto importante, ma è importante e da questo noi, perché è importante? Perché con questo noi abbiamo sviluppato, e qui vado rapidamente alle conclusioni, un nuovo percorso insieme per esempio a European Spa Association, che è una, al cui congresso sono stato la scorsa settimana, proprio per portare avanti quella che è informazione, formazione del personale dei centri termali, ricerca scientifica e validazione delle cure, che soprattutto nel ampio, grandissimo contenitore della riabilitazione post-acuta possono veramente dare risultati. Termino con questa diapositiva e poi con l'altra, ma brevemente dicendo perché siamo importanti, perché curarsi in questi posti non è come curarsi fra le mura dell'ospedale e vi assicuriamo che quel benessere fisico lo possiamo raggiungere grazie alle acque termali, a tutti i prodotti derivati e grazie anche ai nostri meravigliosi scenari in maniera sicuramente efficiente, ma sicuramente più efficace. Credo e spero di avervi spiegato perché è giusto che dove è nato il turismo sanitario ci conosciate, siamo a vostra disposizione e come ha dimostrato i numeri, poi vi potrei anche io dire tanti numeri, ma ci credo fino a un certo punto. Io so la serietà con cui vengono curati i pazienti in Italia, qui siamo in Lombardia, chapeau, e quindi dove funziona ed è importante che io vengo dalla Toscana, che i sistemi privati e i sistemi pubblici funzionino insieme e si rispettino per la salute dei nostri cittadini. Grazie di cuore. Grazie.